Nicola Bandolin, lei fa parte della Confocommercio Bibione Portuguaro Caorle, in questa occasione lei si interessa dei dati, dei trattamenti o dei dati della privacy. Voi fate dei convegni, in questo caso uno a Sanstino, uno a Bibione, uno a Portuguaro, in cosa consistono questi incontri? Questi incontri consistono essenzialmente nella formazione obbligatoria, come dice il nuovo regolamento europeo in materia dei privacy, per chi riguarda i titolari del trattamento dei dati e le persone autorizzate a trattare i dati in azienda. Verranno organizzati tre, ce ne sarà anche un quarto in programma a Caorle, verso i primi giorni di dicembre. Si occuperà di dare una formazione specifica su come vengono trattati i dati, come bisogna trattare i dati responsabilmente all'interno delle aziende, proprio in conformità con quella che è la nuova normativa che è entrata in vigore al 25 di maggio del 2018. Comunque questo è un nuovo balzello per i commercianti, che li può in pratica creare dei problemi oppure se possono essere anche agevolati una volta che sanno come fare? Beh, ovviamente il trattamento dei dati in azienda è sempre stato fatto, nel senso che tutte le aziende trattano dati personali, legati a una persona fisica, che può essere il fornitore, che può essere il dipendente, che può essere il cliente. Con l'entrata in vigore del regolamento europeo in materia di privacy si è dato più responsabilità ai titolari del trattamento dei dati, nel trattare i dati, anche perché con l'evoluzione tecnologica è cambiato un mondo. Da otto anni fa tra le prime aziende per fatturato c'erano aziende petrolifere, le famose Sette Sorelle, adesso tra le maggiori aziende per fatturato abbiamo le aziende che trattano dati. Perciò il dato è diventato il nuovo petrolio. Di conseguenza il regolamento europeo nasce per, da un lato, tutelare il dato personale legato all'individuo, dall'altra parte dare una libera circolazione in termini economici del dato.